E' tornato anche quest'anno il premio Ziree d'Oro, il riconoscimento a personalità aquilane che si sono distinte nei loro campi. A ricevere l'ambito riconoscimento 2018 tra gli altri anche i giornalisti Giustino Parisse e Manuel Romano e per la categoria eccellenza del territorio anche lo chef stellato William Zunfa. E' conosciuta la grande abilità di trasformare ogni banchetto in poesia, anche nella routine quotidiana che gli vale l'approvazione di gente che gli riconosce la sua grande vocazione di scelta. Grazie mille, forse è uno dei premi più attesi perché fa parte proprio della mia terra, è il primo premio che mi viene dato qui all'Aquila. Non è un traguardo, bensì un trampolino di viaggio che mi spinge a ancora far meglio. Normalmente si conosce solo il mio volto, però devo ringraziare insomma tutto dietro uno staff che mi dà la possibilità di raccontare la mia terra in giro del mondo. Quindi questo premio è per me, per tutto il ristorante ma soprattutto per il mio staff. Grazie.